Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legrasse e Novanti, e benvenuti quest'oggi a questo video dove devo comunicarvi una velocissima cosa. Vero, molti di voi avranno avuto magari il desiderio, se non il piacere, di incontrarmi nella vita reale, e magari, perché no, per scambiare qualche vulcano. Quindi io vi invito a venire per scambiare qualche vulcano, che ci sarà anche Giastron, Sexy Ron, sono disposto a correre nudo per il paese. No, no, aspettate un attimo, vabbè, mi ricrederò più in vanti quando sapremo il nome. Ma adesso, punto, il fulcro di questo video è la reazione di Giastron. Ecco, poche balle, guarda, vulcano, ci penso, penso di averlo tra le mani, mi piace. Giastron. Quindi, che dire, ci vediamo sabato, ciao a tutti ragazzi.